Buon giovedì 11 marzo. Gesù ascolta le conversazioni tra i discepoli che si interrogano su chi sia il primo. Tutto accade nel momento in cui si svela che il figlio dell'uomo morirà e risorgerà una condizione inimmaginabile umanamente in ogni tempo in ogni epoca. Chi è il primo? Più virtuoso, il più forte, il più coraggioso, il più saggio? No, il primo è colui il quale si mette nella condizione del servizio, ma il primo è soprattutto colui che incarna la fragilità, cioè l'ultimo. L'ultimo sarà il primo e a partire da questa fragilità potrà comprendere l'enigma della morte e resurrezione che evidenzia la centralità della fragilità per la vita umana che è costantemente evolutiva e rinasce. Il seme buono per dare frutto deve morire, ma darà un frutto copioso, ricco, bello. Ma a partire da quella fragilità e Gesù porta ad esempio un bambino, un bambino che è colui il quale manifesta in pienezza. Sì la vitalità, ma anche la fragilità perché ha bisogno di essere nutrito, di essere protetto, anche la povertà perché non è l'uomo che produce prestazioni e profitto. È povero in senso autentico, non dispone di denaro proprio, potenzialmente potrebbe avere una forma di eredità, ma in quel momento è povero e lì si manifesta il primato dell'ultimo che per noi rappresenta ovviamente un paradosso, ma sta nelle logiche delle cose. Naturalmente nel momento in cui l'ultimo diventa primo deve mantenere integra la sua coscienza critica nei confronti della seduzione della forza e accogliere in sé la fecondità della fragilità. Buona giornata a tutti.